Ben trovati all'ultima edizione del nostro telegiornale C'è la politica, parliamo di elezioni regionali nel quadro delle alleanze. In corso resta in sospeso la posizione del terzo polo, una collocazione ancora da definire ufficialmente, dicono le formazioni interessate. Nessuna interlocuzione con le coalizioni, ma siamo aperti al dialogo con entrambi gli schieramenti. Sentiamo Pasquale Di Bello. L'ipotesi è sul tavolo da tempo, ma tale è e tale al momento resta. Un'ipotesi di scuola, quella del terzo polo. Un'idea mutuata in Molise dal piano nazionale è nata nel corso della scorsa tornata elettorale di settembre. Fu proprio alle politiche che azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi unirono le proprie forze per un progetto che al momento è diventato una separazione in casa e che è servito ad eleggere una pattuglia di parlamentari. L'idea tuttavia di una terza opzione resiste, se non altro come ipotesi o suggestione. E quindi appare anche in vista della imminente campagna elettorale per le elezioni regionali del Molise. Alle due formazioni nazionali si sono aggiunte sul piano locale i movimenti insieme e Molise al centro. Attraverso una nota congiunta le formazioni interessate hanno dato la disponibilità al dialogo con entrambe le coalizioni. Una posizione equidistante sia dal centro-sinistra che dal centro-destra. Qualche telefonata interlocutoria, qualche ammiccamento sotto traccia ma di ufficiale nulla, dicono gli interessati. Al momento non ci sono stati incontri nemmeno con l'ex governatore Michele Iorio, dice Michele Di Bartolomeo di Molise al centro. Va detto per la cronaca che quella del terzo polo è una delle ipotesi che sono state collegate a Iorio ma anche in questo caso senza alcuna corrispondenza nella realtà. Quello che invece appare chiaro è la differenza di opinioni e di prospettiva tra Movimento 5 Stelle e PD. Gravina alla sua prima uscita ha detto no al terzo polo, in linea con le posizioni nazionali del Movimento di netta chiusura verso azione e Italia Viva. Mentre il coordinatore regionale dei pentastellati Antonio Federico ha detto ni, personalmente sono contrario, ha detto Federico, ma esiste un tavolo di coalizione che affronterà la questione. Nettamente favorevole il Partito Democratico invece, che per bocca del segretario Facciolla ha detto sì all'ipotesi di alleanza col terzo polo. Il tema nel centro-sinistra è sempre quello classico, quello del campo largo all'interno del quale inglobare più formazioni possibili con rischio tuttavia che un campo larghissimo possa diventare alla fine un campo minato. La storia dell'Ulivo e di Romano Prodi rappresentano in questo senso un precedente da tenere a mente. Il sindaco di Termoli e candidato presidente della regione per il centro-destra Francesco Roberti ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il malore accusato ieri, ha sottolineato l'alto senso del dovere, professionalità, capacità e competenza dei medici del Santimotio. Oggi sto bene, ha detto a chi gli ha mandato messaggi di vicinanza e attestati di stima, ringraziandoli. A breve sarò dimesso e ha continuato. Sono pronto a iniziare questa campagna elettorale rassicurando sul fatto che sarà una bellissima esperienza e che tutti daranno il proprio contributo. L'affetto che ho ricevuto, ha concluso Roberti, mi ha dato rinnovato entusiasmo per l'inizio di questa avventura. Domani sarà in Molise la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli. L'esponente del governo interverrà all'incontro le disabilità nell'arco della vita, in programma alle 11 al Cinema Maestoso di Campobasso. Alle 13 inaugurerà il centro per l'autismo Io sono speciale, incontra da Colle delle Api. La visita in Molise della ministra Locatelli proseguirà a Trivento dove incontrerà il sindaco e visiterà il centro di urno per disabili Cielo e Terra. Parliamo ancora di elezioni ma ci occupiamo delle prossime comunali. In programma domenica e lunedì prossimi in Molise il record di liste fantasma sono esattamente il 50% di quelle presentate nei centri chiamati alle urne. Sentiamo Giovanni Di Tota. Alle elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi il Molise fa segnare il record delle cosiddette liste fantasma, liste cioè presentate da non residenti, molto spesso militari o esponenti delle forze dell'ordine, che una volta candidati hanno diritto per legge ad una licenza straordinaria per tutto il mese della campagna elettorale. Numeri alla mano accade così che delle 66 liste presentate nei 14 comuni della regione chiamate alle urne nel fine settimana, ben 33 e quindi esattamente il 50% non sono riconducibili ad abitanti dei paesi al voto. Il fenomeno si registra esclusivamente nei piccoli centri, quelli sotto i mille abitanti, dove non è necessario raccogliere le firme per la sottoscrizione delle liste. Benevidente, in alcuni casi specifici, a Salcito, comune con poche centinaia di elettori, sono state presentate nove liste, ma la maggior parte dei candidati in paese è sconosciuta a tutti. A Campochiaro, altro piccolo comune, le liste in corsa sono otto, a Macchia, Valfortore e a Sessano, sette. Singolare è anche il fatto che i nomi di alcune liste sono gli stessi in diversi paesi. La lista Progetto Popolare è la più ricorrente, presente infatti in sei comuni molisani, subito dopo la fiamma tricolore, presente in cinque paesi. Ovviamente, a urne aperte, succederà che nessuno di quei candidati, salvo sporadiche eccezioni, otterrà voti e non certo perché, durante la campagna elettorale, nessuno li avrà visti nel paese in cui si sono candidati. Il giornalista Domenico Iannacone non ha accettato l'invito di Emilio Izzo a candidarsi alla carica di presidente nella sua lista Io non voto i soliti noti. Questo è successo, quanto è successo nei giorni scorsi sulla scelta dei candidati per le elezioni regionali. Ha detto Izzo, ha lasciato Iannacone molto amareggiato. Il panorama è desolante, ha aggiunto, ma il nostro movimento continua a credere nei giusti ideali e vogliamo tradurli in realtà per ridare speranza e dignità ai molisani. Assemblea regionale del PD IDEA a confronto con il candidato presidente Roberto Gravina e il nazionale Davide Baruffi. Domani alle 17.30 al Grandotel Rinascimento a Campobasso l'Assemblea regionale del PD. Nel corso dell'Assemblea alla presenza del candidato presidente Roberto Gravina saranno trattati diversi temi relativi alle prossime regionali del 25-26 giugno. Parteciperà dunque all'Assemblea anche Davide Baruffi, che è responsabile degli enti locali della Segreteria Nazionale del PD. Promuovere la pesca come risorsa economica e commerciale per l'intero paese. L'obiettivo della Federazione Nazionale delle Imprese del Settore è che si sono date appuntamento a Fiumicino per definire le strategie da mettere in campo. Al convegno ha partecipato il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, che ha ribadito il suo impegno per il Molise, è intervenuto l'armatore Basso Cannarsa. Sentiamo Francesca Danversa. Dopo la protesta dello scorso fine settimana delle marinerie di tutta Europa, alla quale si è unita anche quella termolese contro la proposta della Commissione europea di chiudere 87 zone di pesca e di vietare l'utilizzo delle reti a strascico, si è svolto a Fiumicino un importante incontro per il rilancio del settore, considerato strategico per il paese e per tutelarlo e difenderlo dagli attacchi che subisce. Tra questi c'è il piano d'azione per proteggere gli ecosistemi avanzato dalla Commissione europea contro la pesca a strascico, una misura che spaventa e che rischia di far fallire 3.000 pescherecci italiani, tra questi anche quelli termolesi. Pesca Futuro è il titolo del convegno organizzato dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca, al quale ha partecipato anche il ministro dell'Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Francesco Lollobrigida. È stata una grande occasione per far comprendere al ministro la necessità di attuare delle riforme innovative e coraggiose per riformare in maniera efficace ed efficiente il settore, studiando e attuando forme alternative di gestione della risorsa in controtendenza con quelle politiche attuali che lo stanno portando al declino, ha detto Basso Cannarsa di Federpesca Molise, come il fermo pesca ormai obsoleto, ha aggiunto, con un sistema di giornate aggiuntive sempre più crescente che porta le imprese all'insostenibilità economica. La nomina di Paola Matteo a garante dei diritti della persona non è stata effettuata in modo conforme alla legge. Lo hanno deciso i giudici della Tarmolise che hanno ritenuto non valida la procedura attuata dal presidente del Consiglio regionale che ha investito Paola Matteo del ruolo appunto di garante senza una votazione del Consiglio, come invece prevede la normativa. Paola Matteo aveva giurato proprio a Palazzo d'Aimmo lo scorso 22 ottobre, data dalla quale aveva cominciato a svolgere l'incarico che ora il Tar ha azzerato. Lo stato di agitazione del personale di Villa Maria è stato proclamato unitariamente da Cigelle, Cisle, Will e Smiche si riserveranno di comunicare al prefetto di Campobasso Michela Lattarulo e al commissario ad acta Donato Toma ulteriori iniziative a sostegno della mobilitazione alla base della protesta e il mancato pagamento di alcune mensilità fa sapere appunto lo Smiche il sindacato dei Medici. Anche Confindustria Molise con il vicepresidente Rino Morelli ha partecipato ad Ancona nella sede dell'Associazione Industriale al convegno sulla nuova linea ferroviaria adriatica e l'alta velocità intese come volano per lo sviluppo economico. Il delegato regionale alle infrastrutture di Confindustria ha spiegato che il piano strategico decennale di rete ferroviaria italiana esclude il Molise dall'alta velocità sulla fascia adriatica tagliandolo fuori da un collegamento ritenuto strategico anche dall'Europa. Per questo rappresentato le istanze del Molise al tavolo ha spiegato Morelli sottolineando che siamo stanchi di essere ignorati e di subire scelte che penalizzano l'intero paese. Occorre che il governo ripensi al progetto restituendo alle regioni Molise, Abruzzo, Marche e Puglia la possibilità di un futuro prospero ed equilibrato rispetto agli altri territori italiani ma anche al resto d'Europa. Sono in corso i preparativi per salutare la Madonna dei Monti nella processione del 31 maggio con la tradizionale infiorata a Campobasso. Intanto lungo il viale che conduce alla Chiesa e al Castello Monforte sono in corso i lavori per la sistemazione della carreggiata e la messa in sicurezza della collina. Sentiamo ancora a Giovanni Di Tota. È la salita più cara ai Campobassani, i tradizionalisti la percorrono a piedi e durante il mese Mariano l'omaggio alla Madonna dei Monti è quasi un obbligo al di là della fede. Da qualche settimana le rampe che conducono sulla cima della collina Monforte sono interessate da lavori. Il cantiere aperto sulla prima curva per il contenimento della massicciata e il rifacimento dei marciapiedi si è esteso lungo l'intero percorso. I lavori sono stati appaltati dall'amministrazione comunale e prevedono una serie di interventi strutturali. Sarà ripulito il costone della collina e messi in sicurezza i punti dove è concreto il rischio di distacco di massi. Sul piano stradale verrà invece pulito il ciglio della carreggiata e creato un camminamento pedonale. Oggi infatti chi vuole percorrere a piedi il percorso che porta al castello e alla chiesa è costretto a farlo tenendosi a bordo strada. Quando tutte le rampe saranno sistemate verrà ripulito anche il sentiero della via Matris che invece sfrutta il vialetto che parte proprio dalla base della collina. I lavori dovrebbero terminare entro l'estate dunque non prima della fine del mese dei festeggiamenti in onore della Madonna dei Monti. I preparativi per la festa intanto sono già cominciati sia per quanto riguarda la serata del 31 sul piazzale del castello che per la tradizionale infiorata. Anche questo uno degli appuntamenti religiosi più sentiti a Campobasso che prevede tappeti di fiori disegnati sul percorso che la Madonna attraverserà il pomeriggio del 31 maggio gran parte del quale passa dalla città vecchia già pronta alla pioggia di petali e di fiori per accompagnare Maria. L'ex ministro della salute Roberto Speranza ha scelto l'avvocato Isernino Danilo Leva per la difesa nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione della prima fase della pandemia. I fatti risalgono ai primi mesi del 2020 quando Speranza era in carica nel governo guidato da Giuseppe Conte. L'ex titolare della sanità sarà interrogato domani dal tribunale dei ministri di Brescia dunque. Il suo avvocato è Danilo Leva. Il professore Guido Gili già ordinario di sociologia dei processi culturali e comunicativi del Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali della Formazione e prorettore Vicario L'Unimol sino al 31 ottobre del 2022 è stato insegnito del titolo di professore emerito dell'Università del Molise. Da notizia del conferimento del titolo avvenuto con decreto del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, il rettore Luca Brunese, che comunica anche le congratulazioni del ministro stesso. A esse si uniscono quelle dell'intera comunità accademica dell'Università del Molise. È stato presentato questa mattina all'auditorium Unità d'Italia il Festival delle Tradizioni Musicali Isernia e Folclore. Tre giorni di eventi che coinvolgeranno 450 artisti provenienti da diverse regioni italiane. Ce ne parla Enrico De Simone. Le tradizioni musicali tornano protagoniste a Isernia. Tre giorni di canti e balli che animeranno le piazze della città. Questa mattina all'auditorium Unità d'Italia la presentazione del Festival Isernia e Folclore, che si svolgerà dal 12 al 14 maggio. Si parte con la notte bianca degli strumenti tradizionali e delle serenate. Sabato il Gran Galà del folclore italiano, spazio poi a esibizioni e sfilate, artisti provenienti da diverse regioni italiane e dall'estero. Arriveranno 18 gruppi da tutta Italia, compresi i gruppi molisani iscritti alla FIT. Saranno circa 480 le persone che domenica mattina sfileranno per le vie di Isernia. Sarà un momento sia di confronto di culture, di tradizioni, di integrazione, ma anche di proprio interscambio con la città di Isernia. Saranno 7 gruppi per 6 regioni, più 10 gruppi del Molise. Poi ci sarà il gruppo dei molisani del mondo, che è una selezione dei 6 gruppi argentini che fanno folclore molisano, che verranno direttamente dall'Argentina e che proporranno anche loro uno spettacolo. E poi ci sarà anche una delegazione del comune di Kerchem, Malta. Il Molise è di scena, una tregione di folclore è Isernia, che sarà una ribalta nazionale per valorizzare appunto la storia, la cultura, ma anche le grandi bellezze della città di Isernia. Questo è il Molise che a noi piace, è un Molise che fa rete, è un Molise che c'è, che vuole esserci sul mercato turistico nazionale ed è il Molise che piace a tutti. Numerosi turisti attesi in città, la tre giorni che si inserisce nella rassegna palcoscenici è promossa dalla Federazione Italiana Tradizioni Popolari, dalla Regione Molise, dalla Fondazione Molise Cultura, dalla Proloco e dal Comune di Isernia. L'anno scorso c'è stato i padri del folclore qui a Isernia, un'altra manifestazione molto importante che ha fatto sold out qui in auditorium e quindi speriamo che questo qua sia un veicolo molto forte per il Molise, anche perché noi cerchiamo di portare i gruppi che vengono da fuori, quindi farci conoscere. Festa del Corpus Domini a Campobasso, l'assessore alla cultura del Comune Paola Felice ha svelato il nome dell'artista che si esibirà sabato 10 giugno nell'area eventi di Selvapiana, si tratta di Mannarino che nel capoluogo otterrà la data zero del tour estivo di Corde 2023. Da oggi a mezzogiorno sono partite le prevendite dei biglietti su www.ciaotickets.com e su www.tickettoon.it e nei punti vendita abituali. Il costo del biglietto è di 10 euro più 1 euro per i diritti di prevendita. La festa del patrono San Nicola a San Giuliano del Sannio, una festa molto sentita dalla comunità suggestiva alla tradizionale parata dei fucilieri. Vediamo. Uno, due... Una tradizione che risale al 1724 per la comunità di San Giuliano del Sannio, un rito che è identità e devozione a San Nicola. Il patrono del paese come ogni anno l'8 e 9 maggio si rinnova la parata dei fucilieri che sparano in aria con fucili caricati alla vecchia maniera ma a salve e in totale sicurezza per chi li utilizza e per chi è intorno. Polvere da sparo presa dal sacchetto spinta nell'arma e poi le esplosioni in onore di San Nicola. Sono repliche moderne di fucili ad avancarica del periodo dell'Ottocento, di meta-Ottocento. Questa è un'arma italiana, è prodotta su a Gardone Valtrompia in provincia di Brescia. Funziona esattamente come gli originali di una volta, ovvero vengono caricati qui dalla bocca di volata, con la polvere solo polvere nera, noi non utilizziamo altro munizionamento. Qui viene inserito l'innesco sul luminello e con lo schiacciare del grilletto il cane va a battere l'innesco che crea l'esplosione in canna e quindi l'accensione delle polveri. Ieri la parata e oggi la replica con i fucilieri indivisa in processione accanto alla statua del santo e la raffica di colpi finali. Il vestito che indossiamo lo abbiamo riscoperto nel 2012 perché da uno studio sui costumi tradizionari che c'erano all'epoca, insomma da quando si hanno testimonianze, si è scoperto che il san giulianese che andava a sparare, ma anche chi dei paesi limitrofi dei voti al santo, veniva vestito con l'arbito della festa. Presenti le autorità e tanti visitatori per una festa molto sentita, nel lontano 1724 l'allora arciprete di San Giuliano commissionò la statua Lignea di San Nicola che fu accolta dalla popolazione con spari di fucile in segno di festa. Da allora quei fucili ad avancarica si fanno sentire ancora per far arrivare forte al santo la devozione di un'intera comunità. Una tradizione che viene tramandata di generazione in generazione. Anche i bambini vengono coinvolti, preparati accuratamente, istruiti e anche per loro è rigorosa la procedura di assoluta sicurezza, un'esperienza unica per la quale emozione e orgoglio diventano tutt'uno. Sono due anni che pratico questa tradizione di andare a fare il fuciliere, a me piace molto questa tradizione, da grande continuerò. Questo è il primo anno che la faccio e penso che sono stato abbastanza bravo. Quest'anno ho imparato che quando il tamburo batte devi battere il sinistro, cioè si inizia a camminare con il sinistro. Io ho imparato un'altra cosa, è meglio prepararsi dall'inizio, quando inizia la musica, diciamo, quando inizia la camminata sul posto, perché se no dopo ti trovi un po' scordinato. La parata viene replicata il 10 agosto per gli emigranti che tornano in paese. Si è rinnovata a Frosolone la tradizionale festa dei fuochi di San Michele Arcangelo, diversi falò accesi tra le strade del paese per onorare il santo. Vediamo il servizio ancora di Enrico De Simone. Frosolone si illumina con i falò della fede, i fuochi in onore di San Michele Arcangelo accesi tra le strade e le piazze del paese. Si fa gara tra quartieri, la passione che arde e tiene viva la tradizione, i simboli oltre la festa e il sentimento religioso di una comunità profondamente legata alla figura del santo. Siamo parecchi ragazzi che prepariamo il falò di San Michele e come si vede su in cima viene posto un pupazzo riempito di paglia e segatura che sarebbe il diavolo, di cui San Michele Arcangelo uccide e il falò rappresenta l'inverno. Lo facciamo principalmente per i piccoli e per cercare di tramandare a loro questa esperienza di costruire il falò, di fare questo falò, di raccogliere la legna. Noi ragazzini, ma ne eravamo tanti allora, portavamo tantissima legna, l'andavamo a rubare per le campagne e facevamo dei falò a gara chi lo faceva più grande. Nella chiesa San Michele con la sua spada fa trionfare il bene sul male, all'esterno le fiamme scacciano le tenebre, attorno al fuoco ci si riunisce, canti, balli, piatti tipici, i falò diventano motivo di allegria popolare. Troviamo la salsiccia, poi la frittata con gli asparagi, la frittata con le zucchine, caciocavallo, pane, fave, la pizza, il pomodoro pure fatta qua nella zona. E c'è chi dalle tradizioni e dalla bellezza di Frosolone è rimasto stregato, la storia di Michele e delle sue origini. La nonna nata qui nel 1901 mi parlava sempre del suo paese, io da americano, diciamo, italo-americano, diceva va bene nonna, ricordi simpatici, ma che importa a me, che importa a me, ho imparato a dire mai, dire mai. E a un certo punto comincio a fare ricerche genealogiche, basato su quel poco che sapevo, ero qui nel 1983 per solo tre giorni, sono tornato negli Stati Uniti dove facevo, volevo guadagnare un master in biologia, non potevo concentrarmi più, l'anno dopo ero qui iscritto a medicina veterinaria a Perugia e ho vissuto qui tutta l'estate del 1984 per proprio riprendere tutto quello che ho perso crescendo negli Stati Uniti. Domani alle 10 a Campobasso sarà inaugurato il centro B-Future Molise, il centro mira a garantire un sostegno ai genitori e alle famiglie di minori vittime di violenza e minori abusanti. In particolare il progetto mira a proteggere le vittime, una volta concluso l'iter giudiziario nel quale il minore è stato coinvolto e di prevenire il rischio di recidiva e il reinserimento sociale. Il centro aprirà in viale del castello. Al Teatro Risorgimento di Larino è andato in scena il gran finale della stagione Yambel. Da novembre in diversi paesi del Molise 13 compagnie hanno dato lustro al Teatro Popolare. È stata una rassegna di successo. Sentiamo Andrea Nasillo. Il Teatro Risorgimento di Larino stracolmo per il gran finale. La stagione Yambel ha chiuso i battenti tra gli applausi. Un grande successo per il Teatro Popolare riportato in luce. 13 compagnie hanno aderito al progetto della sezione molisana dell'Unione Italiana Libero Teatro. Un proficuo lavoro di squadra intorno all'ideatore Nicolangelo Ricursi. Da novembre tante serate animate dalla rassegna in diversi centri molisani dove le compagnie popolari hanno messo in scena le loro opere con un successo di consensi che premia il lavoro svolto. Sul palco anche l'attrice molisana Daniela Terreri. Il progetto Yambel è stato patrocinato dall'assessorato alla cultura della regione molise nell'ambito del bando turismo e cultura. Al gran finale c'era anche l'assessore regionale Vincenzo Cotugno che si è complimentato con la Wilt molisana e con il presidente Licursi. Sei mesi di teatro, oggi è stato il clou, la serata finale, la serata dei ringraziamenti, dei riconoscimenti a chi ha creduto nel nostro progetto, a chi ci ha aiutato a realizzarlo, a tutte le compagnie che senza di loro non potevamo assolutamente fare nulla, ma a tutti i progettisti, ai ragazzi che ci hanno supportato in tutto. È stata una grossa famiglia, un gruppo di lavoro veramente eccezionale. Siamo orgogliosi di aver portato il teatro in 12 comuni del Molise, sei mesi bellissimi, intensi, di qualcosa che non si faceva in questa regione da tanto. E quindi siamo fieri di aver iniziato un percorso perché questo è solo l'inizio. Dobbiamo continuare su questa falsariga perché dobbiamo far diventare il Molise la terra del teatro popolare. Un gatto è stato smarrito questa mattina a Isernia, zona Isernia Sud, si è allontanato dalla villetta in cui era ospitato, incontrata Selverine delle Monache. Ha tre zampe, una macchia scura sul muso, come potete vedere dalle foto, chiunque lo abbia visto o ne abbia notizie può mettersi come sempre in contatto con la nostra redazione. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci.